Hanno bisogno di manutenzione le campane del boschetto. È un momento particolare, è un momento in cui vengono portate a terra le tre campane per il restauro. Da quanto tempo non venivano restaurate? Metà del secolo scorso, 1950, quando dopo la restituzione delle campane, periodo di guerra, perché erano state requisite, era stato rifatto il sistema delle campane. Chi mai potrebbe considerare il suono dolce delle campane a festa come una minaccia? Solo i due generali protagonisti della guerra delle campane, una delle famose storie di Gianni Rodari. Finite le munizioni, consumate tutti i cannoni, lo stragenerale e il mortesciallo ebbero la medesima idea, quella di fondere le campane dei loro campanili per creare nuove armi da guerra. Ma i nuovi supercannoni non spareranno mai, anzi trasformeranno i campi di battaglia in piazze festose e metteranno in fuga i due generali. Così anche le campane del boschetto furono utilizzate per bisogni di guerra. Erano state requisite per essere fuse e produrre materiale bellico. Al boschetto erano state requisite due campane, le più piccole, perché la terza non poteva essere portata a terra. Terminato il periodo di guerra è stata ritrovata la campana più piccola. Le tre campane risalgono a 1810 della fonderia Crespi. Quindi alla fine c'era la campana grande, la più piccola, mentre la mediana è stata ricostruita nel 49. Il castello è stato ricostruito nel 1950 e il primo gennaio del 1950 le tre campane hanno potuto poter risuonare. Per quanto tempo resteranno fuori sede le campane e di quale restaurano bisogno? L'intervento è stato reso necessario per il cedimento della struttura portante, il castello delle campane. L'intervento soprattutto è stato reso possibile perché alcune famiglie del boschetto generosamente hanno offerto la somma intera per il restauro. Resteranno in laboratorio per tre mesi, tempo necessario per ricostruire il castello con dei motori nuovi e l'apparato elettromeccanico per il funzionamento delle campane. Quindi presumibilmente aprile verranno inaugurate. È già da un annetto che il campanile è dotato di un sistema elettronico. Proprio nel momento in cui abbiamo dovuto fermare le campane per la pericolosità è stato installato momentaneamente e questo durerà finché ci sarà il lavoro. Le note delle campane quali sono? Sì, è un concerto, sono tre campane, in La maggiore, un La, un Si e un Re bemolle.